E' stata simulata anche l'evacuazione di una residenza sanitaria assistita dopo un terremoto nel Mugello durante il primo dei tre giorni dell'esercitazione di protezione civile Giotto 2019. La struttura che vedete nelle immagini è il villaggio San Francesco di Scarperia. Al lavoro operatori del 118, il coordinamento delle maxi emergenze e la struttura regionale della protezione civile. I pazienti sono dei figuranti. La struttura è stata dichiarata inagibile, si è cominciato le operazioni di evacuazione, sono state attivate le funzioni del maxi emergenza e sono stati valutati caso per caso i singoli decenti, provvedendo all'eventuale ricovero ospedaliero di alcuni di essi e una volta dichiarata di nuovo l'agibilità della struttura il rientro delle persone che non avevano subito ferite o danneggiamenti in questo evento. L'esercitazione è inserita in un lotto di iniziative relative ai cento anni del terremoto di Vicchio del 1919, il più importante terremoto avvenuto in un'epoca storica nel territorio della città metropolitana di Firenze per magnitudo. È importante commemorare questi appuntamenti cercando di fare il punto su tutto quello che è stato fatto, sulla grande ricchezza anche del sistema di protezione civile che è stato costruito in Regione Toscana e verificarne l'efficacia nei momenti in cui appunto questo sistema deve allertarsi e deve intervenire. Prima dell'evacuazione, 14 comuni del Mugello e della Val di Sieve si sono riuniti per fare il test di insediamento dei centri operativi comunali. Un focus particolare è stato poi dedicato all'Alto Mugello con il progetto autosoccorso a Pennino. Nel secondo giorno l'esercitazione sarà incentrata sul settore agrozootecnico con la partecipazione di 32 aziende del Mugello.